Salve a tutti ragazzi e bentornati. In questo video andremo a prendere il trofeo il passatempo di scadi. Effettua una scivolata di 150 metri nella neve. Per prendere questo trofeo dovremo tornare in Norvegia. Personalmente ho provato anche in altri posti ma non ce l'ho fatta perché 150 metri sembrano pochi ma non lo sono quando devi scivolare sulla neve quindi il posto che vi consiglio è qui in Norvegia. Dal punto di osservazione dalla veta di Fanaraki da questa montagna altissima mettiamo un segnalino qui a sud est che sarà il nostro punto da dover raggiungere. Se abbiamo già preso il salto della fede dallo studio degli occulti sarà tutto più semplice perché ci possiamo buttare direttamente giù anziché andare piano piano e raggiungiamo il nostro posto. Una volta sul posto basterà che camminiamo semplicemente nella direzione della discesa e il nostro personaggio Eivore inizierà a scivolare da solo. Non dobbiamo fare altro che scivolare per 150 metri facendo attenzione a non arrestarci e il trofeo sarà nostro. E questo è quanto. Spero che questo video vi sia stato utile per prendere il trofeo. Grazie a tutti ragazzi e buona giornata.